Ci abbiamo messo un'ora per capire di che marca è, ma chi l'ha fatta sta scarpa? Non lo sappiamo, non l'abbiamo capito ma a noi non ce ne frega niente perché andiamo a rifare il bel fondo in cuoio cambieremo anche il tacco e come sempre diamo delle belle lucidate e belle lavate Cambio fondo fatto! Non abbiamo ancora capito di chi è sta scarpa, di che brand è ma a noi non ci interessa perché aggiustiamo tutto Quanto costa? Allora il cambio fondo risuolatura completa costa 140 euro compreso di ritiro e consegne a domicilio. Ne vale la pena? Ne vale la pena su scarpe che hanno un determinato tipo di valore è normale che se la scarpa costa 140 euro non so se ne vale tanto la pena Ecco perché ripariamo soprattutto Church, Alden, Allen, tutti sti nomi altisonanti perché soprattutto la tomaia che è la parte più importante della scarpa è fatta molto bene e vengono usati materiali molto molto buoni ecco perché durano così tanto